Buongiorno a tutti un video molto breve io voglio solamente mostrare questo ma non succede probabilmente mostrarlo integralmente Alicuno scrivete un messaggio di amore a sua amata e questo è una cosa che vi vedete frequentemente in cui vi vedete io non quando lo vedevo in Italia o in Finlandia ma è possibile che il ha persone che faccia anche i b io non ho altre cose a dire a voi solamente volevo mostrare a voi il ha in Russia io non posso dire sovente ma non sono le prime vizie che vedo tal del designo su scrittura sull'asfalto Buongiorno a tutti Ciao ciao! Incredibilmente un altro messaggio questo non è di amore questo dice sorride, buon mattino le messaggio che io mostrevo anteriormente diceva l'amore mi porta a te mi principessa Ciao!